Siamo a Reisana con il sindaco Loris Mazzorato. In questa zona il rischio sismico è stato elevato negli ultimi tempi e quindi le scuole elementari non sono più a norma. A questo punto lei ha visto che non c'erano le risorse per poter metterle a norma perché sono bloccate dal patto di stabilità e ha scritto al governo o mi sbloccate questi soldi o altrimenti io le scuole le chiudo. Che risposte sono arrivate? Al momento non sono arrivate alcune risposte. Ci tengo a dirlo. Noi abbiamo fatto una verifica, abbiamo riscontrato con i tecnici che hanno fatto questo sopraluogo, le scuole non sono a norma, in particolare con le ultime normative antisismiche. Tant'è che è di pochissimo tempo fa, ci sono state due scorse che dal nord sono arrivate sempre più vicine verso di noi per cui il pericolo terremoto esiste. Le scuole non sono a norma, ho una scuola che ospita centinaia di bambini per cui se dovesse succedere io non sono in grado di assumermi questa responsabilità. Non perché io voglia fare lo scaricabarile, attenzione, io i soldi li ho, li ho già pronti da poter spendere solamente che a causa del famoso vincolo del patto di stabilità non mi nasciano a mettere a norma le scuole. Allora, visto che io devo assumirmi responsabilità per colpa di qualcuno che sta facendo delle leggi demenziali e vanno contro la sicurezza dei miei bambini, dei nostri ragazzi, dei nostri figli, a questo punto che il governo si assuma le responsabilità di quello che non sta facendo. Io chiudo le scuole, poi se entro settembre non ci arriva una risposta, mi dispiace, i ragazzi restano a casa. A questo punto che cosa potrebbe succedere? Un intervento del prefetto? Ma non lo so se del prefetto, se di qualche ministero, se di qualche ente autorizzato o loro intervento. Essendoci l'obbligo scolastico, evidentemente i bambini non possono essere a scuola, questo è un elementare, no? E' chiaro, questo è fondamentale. Però dico anche questo, se i genitori vogliono assumersi loro la responsabilità di far andare dentro un edificio che non è a norma, se ne assumono loro la responsabilità. Io non mi assumo questa responsabilità perché se succede, lo ripeto, la responsabilità penale è mia, non sono in certo in grado di accollarmi questo onere, questo fardello, dopo che ho i soldi già accantonati e che qualche mente intelligente ha deciso che non li posso spendere. Anzi, mi è arrivata una proposta in questi giorni di fare un mutuo, quindi devo pagare anche gli interessi su soldi che io ho. Questo è fuori discussione, non si attua così. Cioè praticamente dovrebbe fare un mutuo, cioè il comune dovrebbe fare un mutuo per avere dei soldi, per avere un prestito, insomma, mentre invece ha dei soldi in cassa. Insomma è come se io, non so, volessi dire acquisto un'automobile, ho i soldi sufficienti in banca, però non li posso spendere e devo fare un mutuo. Esatto, è quello che sta succedendo in Italia. Noi comuni virtuosi, rispetto ai costi standard, siamo sotto il 40% rispetto alla media nazionale, io come Resana sono sotto il 20% della media a livello veneto, ho i soldi e non li posso spendere, a meno che io non faccia un mutuo, quindi devo pagare gli interessi a qualcuno che non ha nessun senso. Cioè io non posso avere un'amministrazione sana, eccellente e devo pagare gli sperperi, perché qui siamo veramente di fronte agli sperperi, di qualcuno e qualcuno vuole ingrassare sulle spalle dei miei cittadini. A questo gioco e al massacro non ci sto. Questo qualcun altro è il Governo centrale? È solo il Governo centrale, visto che è a capo di questo Stato, che sta facendo andare male le cose, che anziché creare occupazione sta creando disoccupazione, anziché mettere in sicurezza gli edifici scolastici, lasciano la responsabilità a noi sindaci, poi se succede qualcosa dobbiamo rispondere penalmente noi e non lo trovo corretto, etico e morale. Lei spera che altri sindaci seguano la sua stessa strada? Ne ha parlato magari con qualcuno di quelli più vicini? Io ho parlato oggi con qualcuno dentro i ministeri, mi hanno detto di non dirlo, ma c'è una rivolta di sindaci su questo e il Governo è molto, molto preoccupato. Quindi il suo caso non è del tutto isolato? C'è già qualcun altro che si sta muovendo in questa direzione? Esatto, solamente che io ho avuto la forza di comunicarlo ai giornali, alla televisione, a voi che mi state intervistando, la cosa sta facendo breccia, speriamo che in Italia chi fa rumore riesca a portare a casa qualche cosa, ma per il bene e la sicurezza dei nostri ragazzi.